Grazie a tutti. Da poco compiuti il 2 maggio e da tempo lottava contro il cancro. Ascoltiamo il ricordo in questo servizio di Alfredo Primante. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto la cittadinanza onoraria della sua teramo e anche se non era riuscito ad essere presente alla cerimonia aveva provato grande gioia ed emozione. Marco Pannella scomparso oggi a Roma all'età di 86 anni dopo una lunga malattia era molto legato alla sua terra che l'anno scorso gli ha conferito la laurea honoris causa all'università di Teramo. Capo partito, difensore degli emarginati, censore della partitocrazia, alfiere dei diritti individuali ed inventore della disobbedienza civile. Pannella non è mai stato banale nei modi e nel linguaggio sia verbale che del corpo. Restano celebri i suoi scioperi della fame e della sete, le sue battaglie per l'aborto, per la legalizzazione delle droghe leggere, per il divorzio. Battaglie portate avanti attraverso una straordinaria capacità oratoria che riusciva quasi ad ipnotizzare chi lo ascoltava. Pannella, una vita dedicata interamente alla sua creatura, il partito radicale. La sede di Torre Argentina diventa crocevia di giovani pronti ad andare in carcere per rinitenza la leva, di femministe, protoambientalisti, gay, coltivatori di cannabis. Pannella è stato un liberale, un crociano e un anticomunista, ma era anche un laico e un anticlericale, anche se per il suo impegno civile si è guadagnato l'apprezzamento di Papa Francesco, che gli telefonò durante uno dei suoi ultimi digiuni, cominciato quando era già stato colpito dalla malattia, con il pontefice che gli chiese di non andare fino in fondo. Negli ultimi anni è circolata l'idea di assegnargli il seggio di senatore a vita come riconoscimento alla lunga carriera politica. Lui era perplesso, ma in fondo lo avrebbe gadito. Viva la Brusso! Anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha voluto ricordare la figura di Marco Pannella. Il presidente ne ha sottolineato le rari doti di cultura e intelligenza. Marco Pannella, ha detto D'Alfonso, mancherà non solo all'Abruzzo, ma all'Italia tutta. I microfoni di Paolo Renzetti. Presidente, due parole sulla scomparsa di Marco Pannella. Sono molto addolorato. La storia di formazione di Pannella non è la storia di formazione della mia esperienza politica, però riconosco con piacere che lui è stato un gigante della democrazia, della libertà e dei diritti. Ha insegnato all'Italia e all'Europa il pensiero laico. Ha insegnato come evolvono le garanzie dei sistemi civili, delle democrazie. Ha conferito alla politica italiana una dimensione di internazionalità e di transnazionalità. Ha posto il tema del finanziamento pubblico dei partiti come il tumore della politica e della democrazia. Credo che sia un uomo che rappresenta un punto fermo della grandezza di Teramo, dell'Abruzzo in Italia e dell'Italia nel mondo che si interroga e riflette. In queste ore sono davvero tanti i messaggi di cordoglio indirizzati a Pannella anche dai suoi conterranei. Teramo domenica gli renderà omaggio con la proclamazione del lutto cittadino e con una camera ardente allestita all'interno della sala consigliere del comune che resterà aperta sino alle 15 quando la salma partirà alla volta del cimitero di Cartecchio. Tra gli ultimi ad aver avuto l'occasione di incontrare Marco Pannella c'è stato il sindaco di Teramo, Marizio Brucchi, che lo scorso 13 maggio si era recato nella casa romana di Pannella per portargli le chiavi della città, simbolo della cittadinanza onoraria appena conferita. Gli ascoltiamo il suo ricordo nel servizio. Il cordoglio da parte del primo cittadino di Teramo che neanche una settimana fa lo ha incontrato in occasione della consegna della cittadinanza onoraria e quindi della chiave della città. Sì, davvero grande commozione, grande emozione per la scomparsa di un uomo che ha fatto tanto direi per il nostro paese, per la nostra città, un teramano, cittadino onorario. Insomma, davvero in questi casi le parole sono troppe o sono troppo poche perché è sempre difficile esprimere quello che si prova. Però davvero, insomma, provo grande dispiacere. Grande dispiacere per quello che è accaduto, seppure consapevole che le condizioni di Marco Pannella non erano delle migliori perché già la settimana scorsa erano evidenti i segni della malattia su Marco. Però lui aveva comunque, anche in quel momento, seppure di difficoltà, mantenuto una lucidità impressionante e aveva avuto anche la forza di fare qualche battuta, quella delle chiavi false. Se lui sapeva chi le aveva falsificate. Una persona che ha fatto tanto, dicevo, nel bene o nel male, perché tanti lo ricordano come quello che ha fatto, diciamo, il Pannella che ha fatto la battaglia per il 8-0, tanti lo ricordano invece per le battaglie che ha fatto per i detenuti, per l'aborto. Insomma, voglio dire, non tocca a me sicuramente ricordare tutto quello che ha fatto Marco Pannella. Però la città, così come l'ha voluto onorare con la cittadinanza onoraria, sarà vicino a Marco Pannella nel giorno del suo addio. Verrà proclamato il lutto cittadino e saremo pronti ad accogliere Marco Pannella così come merita di essere accolto. Sono certo che la città risponderà come ha sempre fatto. E quindi davvero grande emozione che credo di esprimere, io come sindaco, ma credo che quello che io sto dicendo e sto pensando, lo esprime tutta la città di Terra. C'era la garanzia che anche dopo di me, anche se il dopo dovesse rivela, la storia radicale di grande civiltà umana, non solo italiana, prosegua. Cambiamo argomento sulla riqualificazione del sito di Bussi sul Tirino. Il Forum Abruzzese dell'Acqua ha presentato oggi un esposto alla Procura di Pescara, alla Procura dell'Aquila e alla CSM. Gli ambientalisti ritengono necessaria la bonifica. Ascoltiamo. De Sanctis, si parla della reindustrializzazione della zona di Bussi e a proposito di questo voi avete fatto degli esposti alla Procura della Repubblica di Pescara, dell'Aquila e anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Perché? Perché? Anche all'autorità anticorruzione. Perché si va verso un accordo di programma che è una follia, è un vero e proprio pacco per i cittadini, perché l'area industriale diventerebbe pubblica, cioè uno dei siti più inquinati al mondo da una multinazionale che è Solvè passerebbe alla proprietà del comune di Bussi, un comune di 2.500 abitanti, e cioè i veleni diventano pubblici. Infatti l'accordo prevede che una parte dell'area interna, l'area industriale, venga coperta da cemento, cioè sostanzialmente i veleni diventati pubblici, poi vengono anche tombati e sopra ci si costruirebbe una fabbrica di un'azienda del nord, di un ex senatore leghissa che verrebbe a investire qui. Ora, dall'altro lato, non si tocca la mega discarica di Bussi, è fuori dall'accordo di programma. Infine, nell'esposto abbiamo evidenziato anche una posizione di possibili conflitti di interessi del direttore generale del Ministero dell'Ambiente, Gaia Checucci, che fine a pochi mesi fa era nel Consiglio di Amministrazione in una società privata riconducibile al gruppo Suez, la quale collabora in varie parti del mondo, compresa l'Italia, con Solvay, che è uno degli attori del sito di Bussi. Più di 50 milioni di euro è questa la cifra destinata al porto di Ortona per una serie di interventi che punteranno ad implementare il traffico commerciale pescarese presente. A spiegare tutti i dettagli presso la Capitaneria di Porto di Ortona è stato il consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro. Francesca Romana Tessi. Dopo la firma congiunta del masterplan avvenuta tra il governatore D'Alfonso e il premier Renzi due giorni fa all'Aquila, ora si apre la fase esecutiva che vede declinarsi in tutte le forme l'ingente somma messa a disposizione dell'Abruzzo. Un miliardo e mezzo di euro da suddividere per tutte le esigenze del territorio e ad aprire le danze il porto di Ortona, dove il consigliere delegato ai trasporti annuncia investimenti, progetti e tempistica. Porto di Ortona ottiene 53,6 milioni di euro per interventi diretti e per interventi indiretti di funzionamento e di collegamento al porto. Mi riferisco al completamento della bretella di collegamento autostrada-porto, alla riattivazione del binario ferroviario e poi gli interventi più cospicui per quanto riguarda proprio il porto di Ortona, oltre 40 milioni e mezzo per il prolungamento della diga sud, il completamento della diga foranea e ulteriori interventi di dragaggio, dunque il completamento del sistema portuale regionale attraverso la funzione del porto di Ortona. Il porto di Ortona era stato al centro di un braccio di ferro che aveva visto la regione Abruzzo chiedere di cambiare autorità portuale, inizialmente assegnata alla regione Marche, per essere destinata invece a quella di Civitavecchia, in nome di un ambizioso progetto di collegamento tra mare Adriatico e Tirreno. Una partita vinta e che oggi apre nuove speranze e scenari commerciali al porto abruzzese. Abbiamo vinto questa grande partita in conferenza Stato-Regioni con l'emendamento approvato, entro 60 giorni alla pubblicazione del decreto riusciremo a mettere in campo l'alleanza con Civitavecchia. A Civitavecchia abbiamo già rappresentato questi progetti, credo che veramente il secondo tempo della vita economica non solo del porto di Ortona ma dell'economia regionale passerà qui. La crisi al comune di Tortoreto guidato dall'amministrazione di Alessandra Ricchi e le dimissioni depositate ieri di nove consiglieri comunali hanno fatto sì che il prefetto di Teramo, Walter Crudo, abbia avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale avanzando la proposta formale al Ministero dell'Interno e disponendo di intesa con il Viminale la gestione commissariale dell'ente. L'incarico è stato affidato oggi a Francesco Tarricone a cui sono stati attribuiti i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Unico porto sulla costa adriatica, il Marina di Pescara ha ottenuto la bandiera blu. Vediamo. Come Camera di Commercio non posso esprimere che soddisfazione perché vuol dire che al Marina si sta lavorando bene perché fondamentalmente ai porti turistici viene assegnato questo riconoscimento in base alle regolazioni di servizi, a tutta una serie di appendici che fanno del Marina un approdo assolutamente consono a quegli standard che oggi un mercato così particolare come quello della nautica richiedono. Per cui siamo soddisfatti ed è indubbio che vedere sulla cartina del nostro Paese l'unico emblema preso in Marina di Pescara, la Camera di Commercio come socio unico di questa società non può che esprimere soddisfazione e soprattutto in relazione a quelli che sono gli utenti del porto turistico e che vuol dire che avranno una infrastruttura adeguata alle loro esigenze. Comandante, una bella notizia per il Marina di Pescara, per il porto turistico, però per il litorale di Pescara c'è invece qualche problema e nella prossima estate ci saranno probabilmente dei divieti. Noi stiamo facendo in modo, stiamo cercando di lavorare, di impegnarci quanto più è possibile affinché tutto questo non accada, che si possa fruire dell'estate nella maniera più sicura e più disponibile per tutti. L'anno scorso a proposito di struttura del Marina abbiamo anche cercato di portare uno sportello per gli utenti della Capitaneria nel Marina, potremmo quindi fare anche in quella postazione uno sportello proprio per rendere maggiormente fruibili, più sicuri e più pronti a dare risposte a coloro che verranno, che transiteranno nel Marina di Pescara. E si è concluso questa mattina a Chieti il progetto Cammino Sicuro, pensato e dedicato ai piccoli studenti delle scuole primarie in collaborazione con la Polizia Municipale e Amministrazione Comunale, obiettivo far conoscere ai futuri automobilisti, pericoli e responsabilità che si incontrano quando si è alla guida. Insegnare l'importanza della sicurezza stradale delle conseguenze di una condotta irresponsabile o annebbiata dall'utilizzo di alcol e droghe. A Chieti si è svolta nella splendida cornice della Villa Comunale l'ultima tappa del progetto Cammino Sicuro, dove Polizia Municipale e piccoli studenti delle scuole primarie hanno condiviso simulazioni di guida da più punti di vista. È un progetto riuscito e un obiettivo che noi vogliamo raggiungere, soprattutto quello di creare consapevolezza nei più piccoli, perché siano poi utenti della strada attenti e consapevoli. E poi c'è il tema importantissimo che è quello della ricerca sempre più forte della consapevolezza del danno gravissimo che provocano alcol e stupefacenti. Abbiamo fatto poi lezioni nelle scuole, insegnando, e quello è importante, il comportamento del pedone, il comportamento del ciclista e le regole basi dell'educazione stradale. E poi abbiamo inserito anche quest'anno una piccola chicca, abbiamo utilizzato degli istruttori cinofili per far vedere come deve essere l'approccio con il cane. E noi attraverso i bambini vorremmo, siccome sappiamo che i bambini sono i più grandi insegnanti dei propri genitori, vorremmo che insegnassero ai genitori come condurre un cane. Quasi un paradosso, se non fosse, che sono proprio i bambini a vedere con semplice lucidità tutti i rischi che si corrono alla guida. Quando sento il suono del fischietto capisco subito di essere protetto. Ringrazio i vigili con tutto il cuore perché mettono 100 sicurezza e zero dolore. Ringrazio la Polizia Municipale con felicità perché evitano gli incidenti nelle città. Seguiteli, sono importanti, salvano la vita. E' stato avviato questa mattina all'Università di Teramo il progetto europeo REPEAT finanziato per 2 milioni di euro nell'ambito del programma Horizon 2020. Il progetto REPEAT rappresenta un straordinario risultato perché è il primo risultato conseguito in tutta Europa su un progetto di ricerca che è finalizzato a rafforzare, a potenziare la salute. La salute attraverso politiche di produzione e di consumi alimentari, la salute attraverso scelte consapevoli da parte delle industrie produttrici ma poi anche dei consumatori. Per questo è assolutamente importante potenziare queste iniziative perché attraverso queste iniziative si creano le premesse non solo per fare ricerca di qualità ma anche per creare le condizioni che consentiranno al nostro territorio, che consentiranno alla nostra economia di concentrarsi su produzione ad alto valore aggiunto e di creare occupazione e creare benessere. E' un benessere come tutela della salute e un benessere anche economico come potenziamento dello sviluppo del territorio. Io ringrazio l'Università di Termo e le altre due università abruzzesi che si rendono protagonisti circa la progettazione e la progettazione di qualità per arrivare a questi fondi per stimolare con forza la ricerca, l'innovazione e l'economia della nostra regione. Noi abbiamo una grandissima opportunità che sono i fondi comunitari dei prossimi sette anni, 14-20, sia i fondi diretti che i fondi indiretti. Ringrazio il magnifico Rettore per il lavoro che sta conducendo circa la realizzazione di questi progetti. Sono fondi assolutamente importanti, consistenti attraverso progetti di qualità e noi riusciremo a dare delle risposte economiche e sociali importanti alla nostra regione. Restiamo a Teramo perché è stato presentato questa mattina il calendario degli appuntamenti dell'iniziativa FAI, incontri a cura della delegazione Teramo del FAI e dell'amministrazione comunale di Atri. Si tratta di sei appuntamenti pensati con la formula di interviste pubbliche che spaziano tra arte, musica, cultura, sport e spettacolo. Il FAI insieme al comune di Atri e ad Evelina che appoggia questa iniziativa abbiamo organizzato questi eventi proprio per valorizzare gli artisti abruzzesi nel mondo e speriamo che abbiano tanto successo di più di quello che già naturalmente hanno. Il primo appuntamento è di Piero Mazzocchetti che è una voce meravigliosa, Duccio, Debona Sbei che è la campionessa di pattinaggio artistico, Maurizio Rolli il bassista, la scrittrice Valentina di Cesare e Daniela Musini che finisce e chiude la manifestazione. FAI incontri che si terrà ad Atri nel teatro comunale, ci tengo a dire tutti gratuiti questi appuntamenti per le persone che decideranno di venire ad ascoltare queste interviste pubbliche e anche magari togliersi le curiosità perché ci sarà lo spazio anche per un'intervista un po' partecipata con le persone che saranno presenti. Quindi sarà un'occasione per conoscere anche un po' meglio e più da vicino queste personalità. Si comincerà con Mazzocchetti come dicevo che presenterà il suo ultimo disco proprio uscito il 20 di aprile, si intitola Istanti, quindi parleremo con lui, ascolteremo anche la sua voce e poi andremo avanti fino all'ultimo appuntamento che ci sarà l'ultimo venerdì di luglio, sono sempre dei venerdì questi incontri dove appunto conosceremo Lamusini, Daniela Musini che reciterà anche una bella situazione, quindi sarà una bella sorpresa per tutte le persone che amano l'arte, la letteratura e il teatro e anche D'Annunzio perché lei è proprio la madrina di D'Annunzio, insomma porta avanti la sua arte, l'arte di questo grandevate. Passiamo ora alla pagina sportiva, il tecnico della Pescara annuncia fino a 4 novità nella formazione che domani affronterà il TINA per l'ultima giornata di campionato. Crescenzi e Campagnaro saranno in campo in vista dei play-off, Bruno al posto dell'acciaccato Torreira mentre Itrite è favorito sul diffidato Pasquato per la sostituzione di Benalì che è squalificato. Nella conferenza pre-gara Oddo ha toccato anche temi dell'addio del Pescara all'ex DG Repetto e della trattativa tra la Padula e il Napoli. Andrea Costantini. Tra i 4 giocatori a differenza della scorsa domenica sì, un paio obbligatoriamente e un altro paio perché c'è bisogno che giochino un po'. Affrontiamo una squadra che ha assoluto bisogno di vincere, probabilmente anche il pareggio non basterebbe quindi deve vincere per forza, non so come approccerà la partita, non credo che faccia una partita all'arrebaggio anche perché penso che conoscerà le nostre qualità e cercherà di colpire nei momenti opportuni ma se la tiene l'acqua alla gola noi siamo con l'acqua alla testa, dobbiamo presentarci così, nel senso che noi pure abbiamo assoluto bisogno di vincere, non ci interessa nulla di quello che succede sugli altri campi, la nostra priorità, il nostro obiettivo è vincere quindi scendiamo in campo per un unico risultato e per il resto non conta nulla. A me personalmente dispiace tantissimo per Giorgio perché è un grande professionista con cui io mi trovavo certamente molto molto bene, ha capito sin dal primo momento il mio modo di vedere il calcio e la sessione di mercato insieme a Pavone l'abbiamo fatta assieme e l'abbiamo fatta direi alla luce dei risultati molto bene, però purtroppo queste sono cose societarie che a me non competono. Te l'aspettavi? No, in questo momento no, però io non so a fondo cosa ci sia, io posso dire solo che mi dispiace umanamente e in quanto professionista, a me non mi risulta che la padulla sia andata a fare la tentativa, la padulla è stata qui e si è allenato quindi non cambia nulla, d'altronde sono sei mesi ormai che la padulla è sulla bocca di tutti. Ma stavolta però si è entrata nel video, con un incontro, con un'offerta... Ma gli incontri ci sono stati anche in passato, vi posso garantire, con altre squadre quindi non cambia assolutamente niente. E non si arrestano le polemiche sul caso Lanciano dopo l'avviso di chiusura delle indagini notificato dalla procura federale al club rossonero si è mossa anche la procura generale del CONI che ha fatto ricorso contro la sentenza della Corte federale d'appello ieri di tensione in assemblea di Lega tra il presidente e la numero uno della Virtus, intanto in tarda mattinata la squadra è partita alla volta di Livorno, tra i convocati figura anche il capitano Aquilanti che però è infortunato e non sarà dell'incontro. Il tecnico, primo, Maragliulo a fiducia nel gruppo e confida nei tre punti. Ascoltiamo. La squadra è in salute, si è allenata bene, anche con un buon entusiasmo, con la consapevolezza che ci andiamo a giocare una gara chiaramente importantissima e che ce la dobbiamo giocare col piglio giusto perché sappiamo a cosa andiamo incontro, sappiamo a cosa andiamo a affrontare. I ragazzi sono sicuramente pronti. Mi aspetto un ambiente molto, molto, molto infuocato, però noi abbiamo una squadra dove sicuramente intanto c'è qualche giocatore, non tantissimi, ma qualche giocatore esperto ce lo abbiamo ed è una partita dove non posso pensare che qualche mio giocatore si possa far condizionare dall'ambiente. Questa è una gara, anzi, proprio quel tipo di ambiente in certe situazioni può essere anche un grande vantaggio perché se uno ha l'anima, se uno ha il cuore, quelle situazioni te lo fanno tirare fuori ancora con più vigore. Sì, non si può far finta di niente, su questo è fuori di dubbio, però il mio pensiero lo conoscete perché l'ho espresso anche in altre occasioni. Adesso, proprio in questa settimana, proprio perché è l'ultima e perché ci andiamo a giocare un'annata intera, credo che sia giusto che tutto quello che c'è al di fuori se lo debba vedere chi di conseguenza, nel senso che se c'è una situazione dove la società è tirata in ballo, in questo momento non sono sicuro, sto anche leggendo, sono a contatto con i dirigenti, loro stanno facendo di tutto perché la situazione passi nella maniera migliore. Io mi devo concentrare solo e esclusivamente sul campo, sui ragazzi e come ho detto prima cercare di arrivare a questa partita nella maniera migliore. Andiamo in Lega Pro, i Rosso Blu si giocano la permanenza in Lega Pro, appunto sabato, nello spareggio con il Rimini, la società chiama a raccolta tutta la città. Gianmarco Menga. Manca davvero poco ai 180 minuti forse più importanti dell'ultimo decennio per l'Aquila Calcio. Ci si gioca la permanenza in Lega Pro, ottenuta a fatica un quinquennio fa con molta sofferenza. Man mano che si avvicina sabato sta salendo la tensione tra i tifosi. Si spera davvero che questa volta il pubblico aquilano risponda all'appello dei fedelissimi e della società perché c'è in ballo il futuro calcistico di un'intera città e dei colori rosso-blu. Ma come bisogna affrontare questi spareggi? Certamente l'idea del tecnico Perrone è di evitare di farsi prendere dalla frenesia di dover segnare subito, consci però che al termine delle due partite l'Aquila sarà costretta ad avere dalla sua lo score definitivo, pena la retrocessione. Serviranno, come si dice in questi casi, cuore caldo e mente fredda. Concetto ribadito pubblicamente a chiare lettere dal responsabile tecnico Carlo Susini, che è intervenuto sulla stampa, spiegando che l'Aquila dovrà essere equilibrata senza esporre troppo il fianco all'avversario. Per la formazione salgono le quotazioni del giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini, il più vivo lì davanti, dove si fatica davvero troppo a segnare. È l'unico in grado di attaccare con pericolosità la profondità, assieme alle mezzali, e in più viene dal bel gol realizzato all'ultima di campionato contro la Lupa Roma. Servirà come il pane lì davanti, affiancato da un attaccante mobile ed esperto, magari come De Sousa. I problemi maggiori ci sono in difesa, dove mancherà Emanuele Pesoli, almeno per l'andata. Intanto, nella giornata di ieri, è stato reso noto dalla Lega il direttore di gara di L'Aquila Rimini. Sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Lasciamo il calcio, serata decisiva per l'Acqua e Sapone, che si gioca all'accesso alla finale Scudetto alle ore 20, al Palassan Quirico di Asti, nella decisiva gara 3. Finora ha rispettato il fattore campo con la squadra di Massimiliano Bellarte, che ha vinto al Palaroma di Montesilvano per 4 a 2. Giovedì scorso, punteggio replicato da Asti due giorni fa nel proprio impianto. Nella cosiddetta bella, in caso di parità, al termine dei 40 minuti regolamentari, si andrà ai supplementari due tempi da 5 minuti. In caso di ulteriore parità, saranno gli Orange piemontesi a qualificarsi per via della migliore classifica alla fine della regular season. Per l'Acqua e Sapone, dunque, la necessità di espugnare Asti e compiere una vera e propria impresa. Sempre alle 20, al Palamalfatti di Rieti, si giocherà la decisiva gara 3 dell'altra semifinale tra i padroni di casa e la Luparense. Ed è tutto per questa seconda edizione. Prima di chiudere, ricordo l'appuntamento alle 21 su TV6 con Velo, la trasmissione interamente dedicata al mondo del ciclismo, in studio ospiti Jacopo Forcella. L'appuntamento con il TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento.